L'arte card fa il pieno nei musei napoletani. Fra l'8 dicembre e il 6 gennaio la speciale tessera promozionale ha portato quasi 20.000 visitatori nel circuito museale della città. Un risultato oltre ogni aspettativa, grazie anche al programma di mostre, visite guidate, concerti, tableaux vivants e spettacoli dove si è registrato quasi sempre il tutto esaurito. Un vero e proprio salto di qualità nella valorizzazione del patrimonio artistico cittadino e i numeri sono significativi. Rispetto a due anni fa, l'incremento medio dei visitatori in possesso dell'arte card raggiunge il 700%, con una punta eccellente per il Museo e la Certosa di San Martino che hanno registrato nell'arco del biennio un aumento che sfiora il 1.400%. Un risultato che promuove la cooperazione fra il Comune di Napoli, la Direzione regionale dei beni culturali, il polo museale e le soprintendenze al lavoro per rafforzare il legame fra la città e la sua storia. Le opere d'arte sono una delle componenti dell'identità dei cittadini che osa il direttore generale del MIBAC Gregorio Angelini. La campagna di comunicazione per Natale con i tuoi musei è stata realizzata dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti con una mostra promozionale di 40 immagini esposte in vari punti della città. Credo che questa iniziativa che nasce con un'idea di sinergia tra le istituzioni abbia fondamento l'idea della collaborazione e del proposito di mettere insieme il binomio cultura e turismo. Quindi sicuramente da un lato l'elemento della promozione del talento giovane, dei ragazzi dell'Accademia del corso di graphic design che hanno inventato i manifesti che sono in giro per la città e che hanno così colpito i visitatori e i cittadini che sono poi andati ai musei. E dall'altro sicuramente la collaborazione con la direzione generale MIBAC regionale che ha così potuto mettere insieme l'idea dei quattro musei, dei quattro principali musei insieme al Comune di Napoli hanno creato un percorso facile da individuare e da essere partecipato.